Musica Miei carissimi milanesi ben trovati e ben ritornati qui con noi su Milano All News una nuova puntata, un nuovo racconto, una nuova storia che andremo a raccontarvi insieme insieme ai miei ospiti che avete qui di fianco a me Buonasera, benvenuto a Stefano Ferri Grazie E Saverio Paffumi, buonasera Buonasera Colleghi prima di tutto perché entrambi giornalisti un po' più collega ancora Stefano perché è anche direttore di testata come me quindi i due direttori che si incontrano con invece qui abbiamo un altro collega che ha fatto un po' invece dell'editore in questo momento che racconto e che storia vogliamo raccontarvi questa sera vogliamo raccontare la storia di un giornale di un giornale che prima erano due poi lo sapete insomma le cose non sempre vanno come si spera la crisi, non la crisi, le difficoltà ma l'importante è reagire e saper reagire bene a queste cose a queste cose si è saputo reagire bene e da due giornali ne è nato uno che forse è ancora meglio di prima adesso poi andremo a chiedere direttamente a voi allora Stefano detto bene c'erano due giornali una volta la Conca e Milano Sud insomma non sempre le cose vanno come vogliamo ma comunque da oggi, da un po' ormai anzi già da aprile più o meno sì dai primi di aprile è nato il Sud Milano giusto? che cos'è il Sud Milano? giusto è nato il Sud Milano è una scommessa sostanzialmente è una scommessa ambiziosa perché noi da due giornali trentennali con trent'anni di storia editi da due associazioni storiche del Sud Milano del Municipio 5 abbiamo deciso anzi due testate che tra l'altro ci facevano concorrenza perché intervenendo sul medesimo territorio eravamo di fatto concorrenti e niente diciamo progressivamente incontrandoci e parlando parlando anche qua tra l'altro perché noi siamo venuti qua come singola testata quando tu ci hai invitato per presentare le testate locali abbiamo iniziato a confrontarci e a dirci ma siamo in due siamo un po' in difficoltà ma abbiamo diciamo progetti ambiziosi diciamo mettiamoci assieme per vedere di riuscire a accoglierli accogliere le opportunità e così è stato e così è stato avete colto appunto questa opportunità e da qui nasce il Sud Milano facciamo un passo indietro però da dove nasce invece la vostra necessità e qui poi lo chiedo anche a te Saverio di raccontare però Milano di dare voce a Milano a Saverio chiedi? no no chiedo prima te poi passiamo a Saverio beh allora nasce l'esigenza è sempre la stessa è quella che c'era anche trent'anni fa perché la realtà cittadina tu lo sai come me se non meglio è talmente composita e ricca di esperienze che quando uno prova a metterci il naso si rende conto che tante cose non sono raccontate che tante cose sono sono o sono male raccontate anche allora il nostro obiettivo prima era raccontarle ora il nuovo obiettivo che ci siamo posti in modo diciamo in un percorso professionale perché vogliamo crescere anche di diciamo qualità e dare più informazione incidere sul territorio è stato quello di diciamo proporci come un soggetto che racconta le tante realtà del Sud Milano diciamo dal Lorenteggio fino al Corvetto perché ogni quartiere ogni passo ogni cento metri c'è una realtà differente uno accanto all'altro ci sono quartieri c'è Prada ma c'è anche Grattosoglio c'è la Bocconi ma ci sono anche i Navigli e Viagola c'è Viagola e c'è la Movida c'è la Barona e c'è la Superstudio mi stai raccontando la solita storia che pochi raccontano però di questa Milano un po' a due velocità tutti usano questa metafora di due velocità però poi nessuno la racconta perché poi si racconta solo una Milano se non quell'altra solo quando c'è la disgrazia e invece tu mi stai dicendo c'è quello c'è quell'altro e entrambi hanno dignità di essere raccontate tutti i giorni però non solo quando c'è la disgrazia da una parte o la cosa bella dall'altra Saverio da dove nasce appunto la necessità perché devi per forza raccontarci di questa città perché poi è così o no ho sbaglio ma intanto per cominciare perché non racconta nessuno cioè Milano è una capitale anche della stampa italiana quindi con estrema modestia che dico questo però proprio perché parliamo di grande stampa questa grande stampa non arriva nel dettaglio ad esempio delle periferie non arriva nel dettaglio di quella che tu dicevi la Milano che magari non va così di corsa allora certe cose o le racconta un giornale di quartiere o non le racconta nessuno poi qualcuno dice ma ormai non è più il tempo della carta questo non è del tutto vero intanto perché leggersi un approfondimento come si deve su carta è sempre un qualcosa in più poi comunque questo è un giornale che avrà anche un sito in costruzione sarà pronto fra breve quindi non vogliamo fare come dire una barricata generazionale di qualche tipo ma raccogliere appunto le notizie e gli approfondimenti da questa zona della città ci sembrava una cosa che mancasse tu da quanti anni è che le racconti questa città Saverio? beh insomma io sono arrivato a Milano sono un genovese che però è anche genoano diciamo visto che torniamo in A e qui invece si vincono mi sembra un buon momento per essere genoano giusto? no? quindi va bene stranamente non ci siamo abituati e comunque sono arrivato qua alla fine degli anni settanta quindi sono parecchi anni ho fatto anche il cronista quindi la città diciamo l'ho girata abbastanza devo dire che il sud Milano è straordinario io tra l'altro invece abito a nord abito a sesto San Giovanni e il sud Milano è fantastico perché mette insieme la milanesità diciamo che corre con la campagna con l'aspetto rurale con le cascine cose che invece a nord non ci sono ormai c'erano le fabbriche adesso ci sono le aree dismesse quindi è una realtà straordinaria bellissima pensiamo sulle zone dei navigli pensiamo qui stiamo raccontando degli itinerari di quel che era dall'abbazia di Chiaravalle e quant'altro è una zona anche turisticamente molto interessante che potrebbe avere un ulteriore sviluppo perché non è solo il naviglio conosciuto sono anche altre zone che meritano di essere viste anche da un punto di vista turistico per quanto magari paradossalmente invece in questo momento hanno questo carattere di periferia anche degradata questa foto ad esempio sul primo numero e sul ponte che non ricordo come si chiama il ponte dell'annone al basmetto è un ponte c'è vicino una cascina che potrebbe essere un relais chaton invece è in rovina però magari arriverà qualcuno che chissà che infatti non arrivano magari un po' come è stato per la Toscana qualche anno fa anche Milano a portare a vedere rinascere questi luoghi tu Stefano invece che rapporto hai proprio con la città di Milano questa è la domanda che se uno di prima deve rispondere a questa domanda mi spiace so che non è facile ma abbiamo deciso qui a Milano News chiunque si sederà su queste sede di partire da questo presupposto se siamo Milano News dobbiamo capire che il rapporto ha chi si sede qui con la città di Milano tu che rapporto hai con questa città beh io diciamo non sono un bauscia come si direbbe adesso lo chiamano imbruttito lo chiamano adesso però ho un amore viscerale per la mia città cioè nella mia città mi piace tantissimo e forse col lavoro di giornalista riesco a a comprenderlo di più mi piace tantissimo la viva città e e la prontezza nella risposta nonostante noi spesso raccontiamo di ritardi di cose che sono soprattutto da attribuire al comune a dire la verità però c'è una prontezza di risposta e una capacità di adattamento talvolta addirittura troppo veloce perché poi accade che fai cose sbagliate magari ma c'è un modo di rispondere al cambiamento che a me diciamo affascina tutte le volte e poi naturalmente c'è tutto questo enorme mondo di questa innata imprenditorialità che non è solo economica ma è anche sociale cioè questa voglia di fare questa voglia di mettersi in gioco di creare situazioni magari anche un po' in modo anzi sicuramente spesso in modo disordinato e poco coordinato ecco perché noi ci siamo messi assieme due giornali però però c'è questa questa grandissima forza che è la grande risorsa della nostra città ci parlava Saverio del Sud Milano che dice essere un luogo interessante pieno pieno di vita per te Stefano che cosa caratterizza il Sud Milano appunto poi andiamo un attimino proprio a gilocalizzarlo bene con Sud Milano abbiamo detto da l'Orenteggio ma allora diciamo il nostro Sud Milano che è quello a cui noi facciamo riferimento come giornale è quello è quello spicchio della città che va da diciamo l'Orenteggio al Corvetto a nord lambendo il mura spagnolo sostanzialmente perciò è questo territorio qua noi siamo ambiziosi vorremmo andare ancora un po' più a ovest perché lì non ci sono giornali locali ma per il momento il nostro punto di riferimento territoriale è questo perché se vediamo la mappa dei giornali locali di Milano diciamo il municipio 6 è quello sprovvisto al momento di un racconto è sprovvisto ed è un municipio grande infatti sì sì molto 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 e niente cosa appunto caratterizza secondo te questo Sud Milano secondo me è come come ha detto Saverio certamente l'aspetto diciamo rurale che sopravvive e poi e poi anche perché si è detto prima delle grandi fabbriche che stavano al nord che certamente è una caratteristica però al Sud diciamo in realtà ci sono ancora tantissimi spazi di luoghi che devono essere recuperati ed è la vera grande sfida diciamo della città e già in parte sta avvenendo in zona Porta Romana ma in zona Romolo anche noi qua raccontiamo ad esempio nel secondo numero c'è un'intervista a Gisella Borrioli che è la proprietaria ideatrice di diciamo Superstudio più in Tortona e poi Superstudio Maxi in zona Romolo e lì diciamo 30 anni fa zona Tortona Porta Gemma era zona popolare diciamo popolarissima con fabbriche facciamolo un gioco quali secondo voi potrebbero essere le prossime zona Tortona ogni tanto Milano tira fuori dal cappello questa ciava pensare che Tortona e Savona diventassero quello che sono diventate 20 anni fa 30 anni fa 30 anni massimo era impensabile impensabile certo era periferia pura c'era niente 4 fabbriche che chiudevano case popolari case popolari nulla da fare adesso trovatevi voi un fuorisalone dove non si fa a gara per andare ai 20 lì secondo voi Milano la prossima futuro dove potrebbe trovare dei luoghi simili hai già visto qualcosa che potrebbe io cittava lui adesso lo spazio di Moncucco Moncucco la ricordavo per la strage di Moncucco perché dicevi prima da quando sono arrivato a Milano una delle prime cose in cronaca che arrivo fu questa terrificante strage che poi era dovuta a una guerra fra bande sostanzialmente era l'epoca delle famose bande che è già una Milano con lo spazio proprio aperto da da Gisella Borioli certo poi dopo lì c'è anche l'università l'università c'è lo Iulm c'è il nuovo studentato io credo che Romolo e la Barona oggettivamente sono in un momento in un momento la Barona non perdona diceva qualcuno una volta però sono zone che sono indubbiamente diciamo in crescita anche la metropolitana naturalmente ha fatto molto secondo me un'altra zona che ora sconta tantissimo problema diciamo delle case popolari sostanzialmente è la zona Giambellino Lorenteggio che con la riva della metropolitana dagli ancora 5-6 anni se Aler finalmente sistema le sue case e lì cambia tutto anche lì cambia tutto allora vi chiedo questo come facciamo a scongiurare però che queste zone abbiano l'effetto adesso non me ne vogliano il famoso effetto gentrificazione io lo chiamo effetto Nolo mi manchia molto più bruttale sono molto più cattivo non me ne vogliano i Nolers all'ascolto però è quello che è successo a Nolo c'era una popolazione completamente tolta di mezzo con l'arrivo di nuovi bravissime persone li voglio anche bene c'ho anche degli amici ma che comunque sono qualcosa di nuovo che hanno completamente cambiato volto a quella zona è un bene o un male non lo so sicuramente per chi ha venduto casa è stato un bene a un certo punto perché l'ha comprata forse no però insomma il rischio appunto è la gentrificazione come dici tu come si può scongiurare questa cosa se si può ma rispondo io Savero poi dopo lui interverrà Savero con la cooperativa perché la novità del giornale è che c'è una cooperativa ok allora come come si fa a scongerare questo è un tema che è quasi paragonabile a quello dei migranti che è così complesso è articolato e l'approccio non può che essere a 360 a 180 gradi perché cioè non si può pensare che una riqualificazione di un territorio non debba essere fatta perché sennò c'è il rischio che salgono gli affitti io credo e il costo delle case credo che Comune che in parte lo sta facendo Regione e Stato debbano intraprendere una politica forte di case in affitto perché è solo questa la strada cioè imporre laddove recentemente ieri o l'altro ieri c'è stata una delibera comunale di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione che va proprio in questa direzione però ci vogliono anche risorse che ci mette lo Stato io credo che se noi sistemiamo una zona come può essere il quadrilatero di Giambellino diciamo sistemiamo quella zona lì ecco quella zona lì devono rimanere case popolari se poi accanto arriva un un grande imprenditore che ha un territorio ci vuole fare delle case di lusso le faccia però una quota di quelle case deve sempre rimanere in affitto o in convenzione posso dire una cosa velocissima no poi anzi ti ha tirato in ballo Stefano subito il concetto è molto semplice il mercato da solo non ce la fa non è vero che risolve tutto quindi deve essere la politica una buona politica a creare dei programmi dei piani in grado di evitare quello che dicevi è proprio però sul Corriere di Ieri ad esempio c'è un'intervista a un famoso architetto di cui ai me mi sfugge il nome in questo momento che diceva che la politica ormai sono anni che è un po' latita soprattutto dal punto di vista della progettualità ci sono interventi e il piano affitti però cosa vogliamo fare con la casa da qui ai prossimi 20-30 anni a Milano non si comprende come sì la politica io dicevo la buona politica perché spesso invece la politica non fa quello che dovrebbe fare cioè che è proprio esattamente questo non si tratta di contrapporre due forme opposte di propaganda ma si tratta di mettersi lì e di vedere considerato che magari nessuno pensa più che la proprietà sia un furto però dall'altra parte non la possiamo neanche mandare in paradiso al di là del fatto che il Papa poi dica che il diavolo si nasconde nei soldi che è una frase che ha ripetuto più domeniche però non dobbiamo arrivare fino a lì ma almeno a mettersi attorno a dei tavoli e vedere come fare per programmare nel modo giusto questo sì lì non credete adesso chiedo ai colleghi in questo momento quindi che un po' di responsabilità per non dire colpa abbiamo forse anche noi giornalisti che a volte vogliamo subito raccontare l'immediatezza e mettere in contraposizione appunto su qualsiasi tema cioè come dicevi tu il tema dell'immigrazione è un tema dove puoi essere pro o contro dove bisogna trovare delle soluzioni è stupido essere pro o contro idem sulla casa non puoi essere pro o contro una casa in affitto non esiste l'essere contro o pro però lo facciamo su sentire noi e me nella semplificazione del racconto tendiamo magari poi noi tre magari no ma tendiamo un po' noi giornalisti a cosa possiamo fare per migliorare appunto quel famoso storytelling di cui si parla tanto una cosa possiamo fare per fare in modo che chi governi sia anche un po' aiutato magari dall'opinione pubblica e non invece sempre contrastato perché non gli raccontiamo solo le cose brutte beh intanto favorire il buon giornalismo e noi magari ci proviamo ecco cioè favorire un racconto che non sia la semplice contrapposizione o la ricerca del fatto singolo che ti consente di fare il titolone ma diciamo provare a raccontarlo anche dando un po' un po' un ampio respiro diciamo per quanto riguarda noi giornalisti per quanto riguarda la politica in generale è un po' problema che che c'è che è quello che si deve mettere che si devono mettere d'accordo le istituzioni di diverso colore politico mentre rispondevi mi ha dato uno spunto su una riflessione interessante che forse dà anche ragione a quello che dicevi prima tu su cui la carta torna a farla da padrona anche perché sentitemi un attimo su questo ragionamento io qua che scriva in contrapposizione o no devo prendermi giù in contrapposizione o no che poi smetta uno contro l'altro io mi devo prendere il giornale leggermelo e che quindi non mi interessa quanti like fa l'articolo su questo giornale l'internet ci ha portato invece a dover fare quella cosa immediata per cui leggo il titolo e devo dare un like e una risposta e l'inserzionista di là mi chiede quanta gente mette like su quel titolo qui invece il vostro inserzionista mi chiederà invece quante copie vedrete anzi tra parentesi non le vendete voi sono copie gratuite insomma anche un bel investimento da quel punto di vista forse veramente che la carta ci potrà salvare anche da questo becero giornalismo del like ma sicuramente la carta aiuta una migliore riflessione e devo dire sia rispetto a internet sia rispetto anche alla televisione basta vedere cosa succede nei talk show oggi io mi associo con entusiasmo alle parole di Stefano perché se noi cominciassimo a fare bene il nostro mestiere semplicemente seguendo anche le regole deontologiche basterebbero quelle e quindi a tenersi alla verità sostanziale dei fatti perché questo dice l'articolo 2 della nostra legge istitutiva dell'ordine voglio dire già sarebbe sufficiente la verità sostanziale dei fatti cosa significa significa che il collega il giornalista si deve mettere con una certa modestia di fronte alla notizia senza cercare né di edulcorarla da una parte né di gonfiarla a dismisura fino a trasformarla a modificarla a far diventare un mostro perché se io adesso qua cominciassi a diventare verde e ingrandirmi diventerei Hulk non sarei più servero perfumi ecco questo è quello che invece noi siamo pieni di giornali di giornali anche ma di trasmissioni Hulk e di social Hulk per evitare questo una stampa che invece vada in quella direzione anche se è una stampa molto locale torniamo diciamo alla modeste del nostro livello però può avere quel ruolo che dicevi tu cioè di riflessione leggo con calma ho la possibilità di approfondire magari leggo anche un articolo leggermente più lungo di un post su Facebook che alla fine non spiega mai abbastanza ecco e poi soprattutto alla fine se sono incanzato o no non posso commentare quindi devo aspettare il numero dopo per andare avanti spero che ci scrivano spero che ci scrivano poi sarà interessante vedere l'interazione col sito Milano Sud aveva un sito noi adesso stiamo ricostruendolo e quindi diventerà il sito ovviamente del Sud Milano e lì invece potrà avere sfogo tutta quella che è l'attualità cioè succede una cosa sul sito la riesci a mettere immediatamente questo è un mensile chiaramente ha dei tempi diversi beh però insomma diciamo che io ho grandi aspettative non so mi spiace spero di non mettervi troppa pressione addosso ma ho davvero grandi aspettative sul vostro operato perché secondo me state partendo soprattutto dai presupposti giusti e corretti quindi complimenti davvero l'operazione che state facendo a questo punto dateci tutte le coordinate per fare in modo di non perdere nemmeno un numero del Sud Milano sì allora diciamo le coordinate sono che usciamo una volta al mese alla pagina 2 poi dopo quando avremo il sito diciamo pubblicheremo perché la nostra distribuzione noi usciamo in 13.000 copie però dato che con Milano Sud diciamo distribuiamo un po' a pioggia e quindi questa cosa era un po' cioè rendeva il giornale più evanescente sostanzialmente perché non sempre veniva trovato dal lettore abituale ora noi stiamo e già in parte l'abbiamo fatto abbiamo oltre 30 punti premium abbiamo chiamato cioè punti di distribuzione in cui in cui il cittadino il lettore affezionato trova sempre il giornale per tutto il mese perché lì lasciamo 150 copie o anche di più sono scritte a pagina 2 quando quando avremo il sito saranno molto visibili e sono i luoghi in cui si trova se una persona vuole scrivere per segnalare per segnalare eventi o diciamo soprattutto diciamo problemi o considerazioni la mail è segreteria chiocciola il sud milano punto it o o redazione chiocciola il sud milano punto it e dal mese di ottobre partiremo con un laboratorio di giornalismo aperto anche oltre che alla nostra redazione anche a a coloro che vorranno diciamo parteciparvi benissimo benissimo Saverio vuoi aggiungere una cosa in chiusura per raccontarci questa questa avventura anche sulla tua sollecitazione solo due parole sulla cooperativa Primedia esiste dal 2011 e come dicevo prima abbiamo fatto dei lavori anche di tipo giornalistico come service e poi però ci siamo anche messi a scrivere dei libri raccontare delle storie tra le tante cose ne cito una visto che siamo in tema la storia della comunità Oklahoma che è al grattosoglio ha compiuto quarant'anni noi abbiamo fatto storica realtà del nostro territorio storica realtà del nostro territorio recupero di ragazzi parliamo di recupero di ragazzi difficili abbiamo appena fatto un convegno che prendeva lo spunto dell'evasione al Beccaria dallo stato in cui versa il Beccaria adesso ci diceva Don Rigoldi che ci sono buone notizie che sembra migliorare e con la comunità Oklahoma abbiamo organizzato questa cosa e soprattutto appunto questo bel libro che è uscito un librone di quarant'anni di storie andando a fare una ricerca devo dire scoprendo anche delle cose che non conoscevano nemmeno loro perché i primi dieci anni erano assolutamente avventurosi avventurosi te ne faremo avere una coppia ma volentieri infatti questo è quello che dico sempre di chi consuma il proprio tempo perché veramente c'è tanto tempo e tanto lavoro dietro a questa cosa lo consuma però volentieri perché insomma immagino che sia un'opera che vi fa felici poi comunque alla fine delle vostre giornate è un investimento di fatica di soldi ma lo si fa anche per l'amore di questa città e lo si fa poi per raccontare queste bellissime storie che spesso poi sono le storie poi che si trovano in città perché poi la verità è questa che raccontiamo la città su alcuni giornali brutta sporca pericolosa e tutto è anche vero perché non si può dire che non è che sia solo così ma non è solo quella roba lì certo c'è tanto tanto altro Oklahoma e tante altre lo testimoniano prossimo numero quando ce lo vediamo fra pochi giorni quando è che esce a giugno? no si 13 giugno 13 giugno esce il nuovo numero di Sud Milano esce sempre a metà mese si più o meno a metà mese più o meno a metà mese nella prima metà del mese esce appunto il numero nuovo il Sud Milano io vi ringrazio davvero per essere qui con noi grazie a voi grazie a voi grazie del vostro lavoro quotidiano grazie Fabio mi è Cristina Milanesi grazie mille di averci seguito ci vediamo alla prossima alla prossima